Tre ragioni per comprare la nuova Porsche GT3 RS. Intanto il design che è, cioè, rispetto all'ultima, secondo me Porsche ha fatto passi da gigante, ma in maniera proprio spettacolare, perché abbiamo con l'Optional, abbiamo un frontale in carbonio stupendo, tutta una fiancata un po' più aggressiva, con dei nuovi parafanghi molto più aggressivi e un alettone fantastico, più bello rispetto a quello di prima. Poi abbiamo il sound che è ancora aspirato, signori, quindi è da comprare subito perché tra poco saranno tutte turbo e quindi queste auto schizzeranno alle stelle, quindi è un investimento da fare ora. E poi abbiamo la potenza perché con uno scatto da 0 a 100 in 3 secondi e mezzo, con un magnifico PDK e una velocità massima di 350 km orari, cioè è l'auto da comprare.